L'ispirazione è vitale ai fini dell'innovazione, ma anche la concretezza. La collaborazione agli inizi degli anni 2000 con David Lewis, uno dei nomi che ha fatto la storia del design, rappresentò una vera e propria rivoluzione nel mondo delle cappe. Da quel momento in poi le cappe presero strade veramente avventurose sotto il punto di vista del design. Penso alla cappa Star, una cappa metafora, una lampada e una cappa, appunto, coperta di cristalli. Star è stato il concept iniziale. Oggi Interstellar rappresenta la sua bellissima evoluzione. Una delle pietre miliari nell'innovazione elica fu la realizzazione, a metà degli anni 2000, della prima cappa verticale sul mercato. La cappa era la home, un prodotto dalla forma perfetta, un cerchio contenuto in un quadrato ed ha una prestazione eccezionale in termini di tecnologia. Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo. We are the air architects.